Ciao a tutti, scusate la voce ma purtroppo sono afona e mi è andata via la voce e niente, giorni che sono così e purtroppo questo è, non ci posso far nulla. Volevo farvi questo video perché molte di voi mi hanno chiesto qual è la differenza fra la flora e la nord, visto che si assomigliano abbastanza. Dunque sono due filati diversi perché la flora è fatta dal 65% di lana il 35% di alpaca ed è 210 metri di lunghezza. È un filato che può essere messo nella categoria dell'alpaca tipo la lima, la nepal, solo che è molto più fine perché si lavora con i ferri numero 3. Mentre la nord, che è diciamo quella nuova, la novità, ha un 45% di alpaca, un 30% di poliamide e un 25% di lana. Quindi ha questa percentuale di poliamide che la rende chiaramente diversa dalla flora anche per usi diversi, diciamo così. Anche se in realtà sono abbastanza intercambiabili, però sicuramente se devo andare a fare dei calzini mi troverò meglio a farli con la nord rispetto che con la flora. I metri sono 170 e si lavora sempre con i ferri numero 3. Anche le colorazioni sono diverse. Anche se sono morbide tutte e due, chiaramente voi le potete utilizzare per quello che più vi piace, vi interessa, però ecco il fatto che abbia della poliamide sicuramente rende la nord diversa dalla flora. Chiaramente per le calze, come sapete, Drops ha la fabel, la mitica fabel, è stata 5 lana e 25 poliamide e sono 205 metri e anche questa si lavora col 3. La differenza tra la flora e la nord è che la fabel può essere lavata in lavatrice, mentre la nord si consiglia comunque un lavaggio a mano. Ma, come sempre dico, non è detto che con la fabel si fanno i calzini e con, non so io, la flora, no. Perché io con la fabel sicuramente, l'avete già visto ma ve lo faccio rivedere, nei colori, soprattutto i long print, faccio sempre dei vestiti per mia figlia, perché è molto comoda, è leggera, va in lavatrice e non ho problemi. Ed eccolo qui, questo è uno, ho fatto anche un maione per me, ho fatto anche un vestito per me, quindi io la fabel comunque col fatto che va in lavatrice ed è molto leggera, molto fine e mi piacciono molto le colorazioni, la uso un po' per tutto. Vi faccio vedere le colorazioni e se avete commenti, appunto, commenti oppure richieste, fatemelo sapere qui sotto. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao!